Signore, mi piacerebbe parlare un poco della Costa Concordia, non so se ce la presenti, quella del Capitano Schettino, a me piacciono queste cose, è stata una tragedia, non è che mi piace scherzare sulle cose, è una cosa impossibile. A me piace più che altro analizzare il problema per vedere come si può tentare di evitare un'altra volta, no perché non solo questo, pure questi tipi di disastri qua, è bello andare a indagare a vedere dove stava la falla, oppure quello che successe con la dica del Vaillant, oppure altre cose del genere, andare a vedere la struttura, come era fatta, se il progetto era buono, a me queste cose qua mi interessano. Comunque ora, siccome avevo visto sopra il canale Facebook del signor Giovanni Maestrino, che aveva postato il fatto della Costa Concordia, che aveva visto sopra la fanpage, mi ha fatto ricordare un poco quell'occasione là, no? Cioè, ora c'è soltanto un video di partenza, no perché mi piacerebbe proprio discutere un po' di queste cose, se a qualcuno gli interessa, perché no, io furia abbastanza informato, ma qualsiasi informazione voglio io, no? Siccome molti dicono che riesci a avere delle intuizioni, vabbè, vorrei parlare un po', se a qualcuno può interessare, nei tanti tipi non si guarda nessuno, comunque, no perché io sono pure bravo come tecnico, comunque sì, volevo dire un po' di queste fatte della Costa Concordia, no? Quando seppi di quello che è successo, no? E' fatto lì del Capitano Lischettino, che cosa, io disse a mio padre, no? Sì, papà, io non sono religioso, anzi, non sono un maiale senza Dio, no? Ma se avessi avuto la fortuna, no? Di avere, come si dicevi, quel posto di lavoro all'arte, come capitano di una nave del genere, no? Ha visto che ci smuggerà la maronda ogni sera, cioè, non so se ci avete presente, quello ha avuto la grande fortuna di avere, cioè, a disposizione una nave del genere che fa, ti riesci a fare a imbriagare, cioè, piuttosto che, cioè, a meno se fossi stati in alto mare, potevo pure capire, ma quello si è vicino alla Costa, che fa vicino alla Costa, ti riesci a fare a imbriagare, cioè, rimane al timore, chi c'è rimasto al timore, eh? No, per sapere, no? Uno che, che si è imbriagare, pure, oh, secondo, pur il timoniere si è imbriagare, mannaggia la miseria, vabbè, comunque, da una parte, cioè, mi dispiace per tutte quelle persone morte, deve essere sincero, perché è pure una cosa, però, da una parte, ho visto che fortunatamente, a meno le persone, altre persone si sono buttate a fare i soccorsi, cioè, alle, cioè, non le hanno abbandonate, e, secondo me, se la rimanevano lì dove stavano, no? Era pure un'attrazione turistica, perché molte persone si sarebbe andata a guardare quella cosa là, eh? No, perché, da essere sincero, secondo me, si poteva pure fare in un'altra maniera, per poter attirarla su, senza doverla smontare completamente, tanto era soltanto annullata dalla nave. Esserò, vabbè, ma al giorno d'oggi, pure per le navi, conviene più farla da capo, che mettersi a ripararla, eh, come, eh, al giorno d'oggi, televisorio, non si riparano più, no? No, prima di combattere l'uomo, eh, pure, eh, eh, pure i smartphone, chi li riparà più i smartphone? Quindi gli etta, le cattate l'uomo, eh, queste cose. Comunque, no, mi piacerebbe parlare un po' di queste fatte di Acosta Concordia, cose che a qualcuno potreste intesa, per esempio, quella, 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 o Titanic, per ricordo una scatola che fece Victor Laszlo, 88, quando gli disse ci vuole una barca più grande, e lui gli disse, dove è che l'avamo sentito sta frase? Nel film Titanic? No, hanno fatto scicchiare la Italia, quando gli disse, però mi dispiace per le persone che ci hanno messo la pelle. Vedete che persone come quelle si sono fatte prendere molto dal panico perché molti di quelli con tutti che fanno gli addestriamenti obbligatori con le scialuppe di sabbataggio e i salvagenti per incidenti come questo, la gente comunque si è fatta prendere dal panico. Se fossi stato là, non dico che fosse andata meglio le cose, ma io sono sempre pronto a fare queste cose, mi alleno sempre per queste situazioni qua, senza mandarmi però, perché io le cose faccio proprio all'avventura. Comunque se a qualcuno interessa ne possiamo parlare un po', magari mi dite che volete, casamai mi documento un po' se volete, faccio qualche video, perché a me queste cose qua mi interessano, queste, le situazioni di pericolo, no, perché ce ne sta tanto da dire, se a qualcuno interessa. No, perché stavo pensando una bella serie di video, vorrebbe fare bella, anche se io, quello che voglio fare più che altro, io sono disegni. Vabbè, tanti saluti, ci vediamo.